Buonanotte cari amici, direi uno, un libro si scrive, un libro si legge, un libro si critica, scrittori in tv, perché? Perché leggere cambia la vita, per alcuni pensate allunga anche la vita, insomma i libri per diffondere emozioni. Quando ero bambino di tanto in tanto i miei genitori mi portavano a Erkia, un piccolo paese della costiera amalfitana. Non essendo abituale di quei luoghi la domanda che mi veniva fatta più spesso era a chi appartieni, e in quella a chi appartieni forse si nascondeva il concetto stesso di reputazione. Il patronimico e il ruolo che svolgiamo all'interno di una comunità ci definivano come individui. Con l'avvento del web tutto questo viene totalmente stravolto, le informazioni su chi vogliamo le possiamo avere in qualsiasi momento, e in questo mare magnum diventa fondamentale governare la nostra immagine, non solo governarla ma anche tutelarla e monitorarla. In questi grandi step ci si muove per andare a costruire quella che è la propria reputazione. Ma è corretto parlare di reputazione? Beh forse è meglio parlare di reputazioni, ovvero di più dimensioni, reputazione nei confronti di chi e rispetto a cosa. Una cosa è parlare di reputazione nei confronti dei dipendenti, una cosa nei confronti di clienti, ma tutte le dimensioni diventano fondamentali per costruire la nostra immagine e prosperare nel mondo economico, perché la reputazione diventa un vero e proprio capitale intangibile. Non poi così intangibile visto che per gli asset legati alla borsa vale oltre 6 miliardi di dollari. In questa complessità si muove il libro Reputazione, capitale del terzo millennio, provando a guidare il lettore verso la quinta rivoluzione industriale che è quella della reputazione.